Papa Francesco contro la violenza disumana, grande Papa Francesco, ieri sera, oggi è lunedì 21 agosto 2017 e ieri domenica 20 agosto 2017 dal balcone della Basilica di San Pietro ha pregato affinché Dio liberi il mondo dalla violenza disumana, a grande grande Papa Francesco ha detto che Dio liberi il mondo dalla violenza disumana, a la fede, che cosa fa la fede cari amici, proprio vero che la fede sposta le montagne, Papa Francesco ha chiesto a Dio di liberare il mondo da una violenza disumana, ma il mondo è stato creato da Dio e Dio Onnipotente il mondo lo poteva creare senza la violenza, Dio è onnipotente, non so se mi sono spiegato cari amici, grande Papa Francesco, grande Papa Francesco, ma io queste cose proprio non riesco a capirle, io proprio non riesco a capirle, perché io sono Serafino Massoni, questa è la mia storia della filosofia, un po' stoica, un po' cinica, e questo è il mio celebre primo pamphlet, che ora nella sua bella versione lingua inglese, sta in tutto il mondo, sulla grande piattaforma online della mela, Apple, 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 naturalmente c'è anche la versione lingua italiana, che sia chiaro, a grande Papa Francesco, grande Papa Francesco, che ha pregato ieri, ha pregato Dio affinché liberi il mondo dalla violenza disumana, dalla violenza liberi il mondo, Dio liberi il mondo, ma Papa Francesco il mondo l'ha creato, Dio l'ha creato, vabbè cari amici, qua mi fermo, e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.